Margot Robbie è diventata mamma. L'attrice di Barbie ha dato il benvenuto al suo primo figlio, un maschietto, con il marito Tom Akerli. I dettagli sul bambino di Margot e Tom, tra cui il nome e la data di nascita, non sono ancora stati svelati. La prima apparizione di Margot, dopo la notizia della sua gravidanza, è stata a luglio, al torneo di Wimbledon, dove è apparsa con il marito. Estate 2024, Baby Vip e nuovi amori. Le notizie più belle, amica. Margot e Tom si sono incontrati per la prima volta nel 2013 sul set del film drammatico sulla seconda guerra mondiale Sweet Frances, dove lui era assistente alla regia e lei interpretava il ruolo di Selene Joseph. Tom Akerli e Margot Robbie, si sono poi sposati nel dicembre 2016 durante una cerimonia privata a Byron Bay, in Australia. I due non hanno mai annunciato il loro fidanzamento prima del grande giorno. A giugno, Tom ha raccontato al Sunday Times come lui e Robbie riescono a conciliare la loro vita personale e professionale. Passiamo 24 ore al giorno insieme. È senza soluzione di continuità. Non abbiamo un interruttore acceso, spento. È diventato tutto una cosa sola.